Ciao a tutti ragazzi, io sono Zane e oggi sono qui su LOL e questa è la mia prima partita che registrerò, sono qui con Megalello98 o Juntmine, questo è un pazzo che non registrerà per quest'occasione visto che gioca LOL da poco, è un incapace, non è vero, sei un fottuto bastardo, per quest'occasione userà Varus, non so neanche chi è, io almeno l'ho usato qualche volta, io uso Xin Zhao come al solito, aveva chiesto di mettere un PG, io scelgo quello perché lui mi ha detto quello, però non sa neanche lui cos'è un PG, quindi nei commenti sotto al video scrivete cos'è un PG, intanto vi racconto meglio perché non si capisce niente quando parla a Megalello, qua Kazix, che abbiamo scoperto che è italiano, ha chiesto di mettere un PG e io senza volerlo ho detto a Megalello di prendere Varus che è proprio un PG. Gangstar of Legend, che schifezza, che schifo, ma abbiamo finito tutti di caricare, sì ora sì, hai un PG che fa schifo, questa partita sembra piuttosto alla pari, visto che nessuna delle due squadre ha un tank, cosa molto brutta, io non so neanche che cacchio di personaggio sono, io non sto, io non, basta scrivere che i giocatori che imprecano contro, vuoi bloccare la skill che tiri da lontano, che hai un cerchio, tiri in un cerchio delle frezze dall'alto o stai usando torrent, stai usando torrent, sì te l'ha chiesto uno con lui, sì esatto bravo, come ho fatto a indovinare? eh perché è il ping alto, ti allontana, cioè ci mette di più a far tutto, lagga di più quindi, ma non lagga, ecco, ma infatti non deve laggare Susi, allora tu vai con, io vado che adesso devo togliere, devo togliere il volume, uh che bello, tu vai in top con il nostro esperto, no aspetta, ma aspetta, aspetta, con l'italiano è Kha'Zix o Zax, adesso mi sto confondendo, è Jax, coglione, no, mi sono sbagliato, no tactic, is about, eh, what, what the fuck, aspetta, what, io sono ancora qua, dove devo andare? minion in azione, i minion in azione, che è l'rima, vai in alto, lo spirito del guerriero non si piega mai come va? un teatro non so parlare in inglese no, cosa sto scrivendo? parlare in inglese aiuto, dove sto andando? vabbè, sempre avanti no, io torno indietro cazzo cazzo di boda eh, dai, 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 dai voglio fare il primo sangue, voglio fare il primo sangue il destino ha fatto la sua scelta il destino ha fatto la sua scelta e ha scelto quelli siamo noi come al solito porca boia, c'è Master E tra cui c'è spuglie l'hanno visto tutto, pure dall'altra parte del campo ma lei non se ne rende conto ma sta laggando in una maniera assoluta cosa quella no, vaffanculo, io muoio non so quella no, vaffanculo, vaffanculo c'è la mia compagno trezze spugli non so neanche cosa sta a scoprire 49, non so dove cazzo la capiglia tolto un po' più andiamo qua ah, vaffanculo scappiamo trionferemo trionferemo, esatto megalello gioca bene perché sennò dopo ti picchio so dove abiti so dove abiti rompa po' perché mi ha fatto cazzo, quello è un senso è sparita quella lì ah no, eccola guarda Master Yi ha ricollato porca, non ci credo sto deficiente è ancora a livello 1 già, ha fatto il recall e poi è tornato adesso certo, sfigato no, ci sono due di quelle lì adesso io che attacco che attacco di quelle due ma perché adesso io mi butto sotto Torre per uccidere quella la capogra di te siiii, ho tolto un po' più di vita Master Yi Master Yi non ha speranze contro di me gli tolgo un po' più di vita no, vaffanculo no, è vero che lui ha meditazione vabbè io ho le pozioni che mi regenero ma è la stessa cosa io compro le pozioni e uso le meditazioni ma tanto sono io il più forte rimani sotto Torre sto arrivando rimani nascosto sotto la Torre e aspettalo capito? rimani lì sotto la Torre non allontanarti e aspettalo eh, ma cosa sto facendo? no, magari non sai leggere cioè, se magari non sai leggere io non tutto l'ho detto ah, eh, non l'avevo letto io, eh muori, fottuto fottuto no, cazzo, cos'è? primo sangue ti l'ha fatto? l'ho fatto io, me l'ha fatto il mio compagno il primo sangue siamo dei grandi abbiamo fatto il primo sangue io me ne torno a casa gli ho tolto un mucchio di vita solo che se la ricrea subito quello sfigato ho fatto assist da primo sangue allora mi copro un bel po' di boccette perché avrò molto da rigenerare io sono a livello più alto di quello lì che non ha fatto niente oh appunto ci sono più basso forse dai combatti un po' non ci credo non ho messo matti mi rintoppo io porco io porco sto morendo ma quanti sono coglioni questi hanno messo un support in mid da solo sai cosa vuol dire support? spero di sì che è di supporto tipo il topolino che non fa un cazzo anche il topolino è di supporto e questo qua è andato in mid cosa? quella lì è capace solo di rigenerare la vita dai, ammazzolo dio volo dio volo dio volo dio volo ah abbasso di me ma come può usare la burro? si mentre ho deciso la sua copia ho fatto 25 d'oro quindi se questa qua si sdoppia e se lo uccide la copia sbagliata si no dio 25 d'oro 25 d'oro 25 d'oro l'avevo quasi tolto tutta la vita ormai lo ammazzavo si 41 d'oro sono un mito qual è quello che ricrea la vita? affa ricreami un po' di vita eh che bello 297 secondi 309 309 ma lì chi è che mi ma dove era? ma che cazzo? ma usa lo sprint vedo che amministra l'amore di lui ma che cazzo? hai ucciso l'uomo ragno chi sia stato non si sa ucciso le blanche la staffate della libertà ahahah bene adesso mi mi mangio un po' di pozioni però sti minion mi stanno consumando tutta l'energia che mi sono preso con la pozione e vai e mancia non si ritira mai e mancia non si ritira mai all'attacco della torre uohohoho devi friggere la torre sempre avanti sempre indietro e da qui venite 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 non si usa v coglione porca boia è arrivata le blanche porca boia porca boia porca boia pericolino 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 io sono livello 5 gli altri che livello sono 5 5 6 ma li prendi uno di quelli questo beh è andato bene peccato che come stai con i punti una morte e basta non c'è neanche troppo male io ho fatto una kill e un assist io buono no dio ma che cazzo eh si ma mi faccio ammazzare non c'entra niente ma perchè non ti ha censurato cazzo che ne so io ma ah perchè ti hai messo i punti di domanda e li hai fatti attaccati allora non te l'ha censurato e che cazzo assurda cosa mi è successo ma chi è che mi fa da ma torna indietro come se mi fa a segnare indietro ma si fa danno da solo sto qui rallentato rallentato no un alleato è stato ucciso allora non c'è non c'è pericolo mi fa un culo cerca di rimanere lontano visto che è quello lì che tira io mi compro un coso che fa salute eh infatti ci sto lontano genio solo che non riesco a c'è volevo ammazzare uno solo che non mi ha tirato la freccia perchè c'è quello lì che è un mago che ne so io che non si ora distrutto la torre ora distrutto la torre 150 euro per uno a tutti si ho distrutto una torre abbiamo distrutto una torre segnala di fare attenzione lei segnala di fare attenzione oh no dai requisisco le loro vite sono troppi sono troppi sono troppi sono troppi scappiamo 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 aiutami che è sparata ma va fa culo non sono capace di seguire la gente non si intendiare dio buono dio buono dio buono dio buono stordito cosa ma le mancia non si ritira mai le mancia oh vuoi usare D neanche D hai ucciso l'uomo ragno a passo di marcia forse è fuori della mafia forse è la pubblicità ora vado a uscire pure l'altra e chi sia stato lo si sta sempre io vai a fa culo no l'ho tirato male ma scappano tutte le volte che lo spirito del guerriero non si piega mai rionfferemo rionfferemo verrà fatto bene io raccollo di nuovo uno qua per chi non mi ha visto la tua squadra ha distrutto una tutta vai distrutta la natura c'erano 4 lì di posto compriamo tutte le cose che posto ops le ho coprate un po' troppo vabbè un alleato è stato ucciso nooo hanno ucciso la mia compagna vaffanculo vaffanculo segnalati per attenzione ma quando? funziona eh ma quando io ho segnalato ti fare attenzione che livello sono? cos'è? vabbè io appena non ci domino sono all'otto cosa minchia serve eh? su sto vaffanculo le matcha non si ritira mai so che saranno un po' noiosi le partite di lol che gare? ah si se blocco all'improvviso il video è di nuovo perchè entra con qui un m70 chiedermi qualcosa una roba di genere sapete ma adesso stai registrando vero? si ah ok dai mana di che cosa ma voi quante ne avete distrutte di torre? due e poi tutto ci dice anche a un certo punto eh all'improvviso spunta una lancia che lancia? cosa stai? no il mio personaggio hai presente che ha una lancia enorme in mano? allora quando attacca uno dice all'improvviso spunta una lancia o spunta o non lo so vabbè roba di genere requisisco le loro vite beh nel vero faccio solo due tiri fino adesso però intanto ho distrutto due torri push top ha ragione perchè qua in in bot siamo già apposto muori con amore spero stia parlando con il nemico non con me con se stesso che non ho tanta voglia di morire neanche sei comodore allora salto noi siamo già al 10 qua sotto voi a quanto siete di livello? la tua squadra ha distrutto il lato bravo 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 io sono al 9 ma dai ma gli stavo sparando anch'io non ne va come ha distrutto un'altra dio la tua squadra ha distrutto il lato muori con noi stiamo già distruggendo l'inibitor se distruggiamo l'inibitor abbiamo vinto aspetta devo venire la no 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 ce la facciamo solo per dirtelo porco boia porco boia l'inibitor è buttuto e ora che hanno distrutto l'inibitor abbiamo vinto la tua squadra è stata distrutta è vero perchè adesso vi arrivano anche i minion potenziati siamo ancora a tutti i livelli del bambino quindi i minion potenziati aiutano ancora lui ma l'ha distrutto e io figlio di p***a veniamo lì si direi visto che possiamo già attaccare il eccolo vai nexus morto abbiamo già distrutto una torre del nexus vi conviene scappare è di brutto dio porco mi sta ammazzando tutto tutto mi sta ammazzando che è questo intanto io ho già distrutto tre torri no quattro torri è un inibitor quindi adesso non mi fregavano le kill non morivo anche voi avete distrutto due torri bravi eh ma io guarda se non me le fregavo come basta allora vediamo oh vai aiutare il tuo amico sta combattendo contro l'orelector eh ma io che ne sapevo ma eh magari ci guardi ogni tanto eh io non ci guardo un nemico è stato ucciso no non ci guardi cioè tanto se ne fega degli altri ma puttanissimo è andato puttanissimo dio porca mamma non si ritira mai c'è abbiamo vinto ma guarda manca solo l'inibitor in mid c'è l'unico forte nell'altra squadra è Vladimir che è al 13 e poi c'è Renekthor che è al 12 però quello riesco a ucciderlo anche da solo no 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 stanno uccidendo stanno uccidendo dai aiuto ma chi è casi dov'è ma in mid non vedi che c'è uno che sta rincorrendo all'altro aiutami 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 cazzo sta arrivando quell'altro ecco guarda guarda ecco muoio muoio ecco muoio il mana fa uccisione doppia serie interrotta sei un culo c'è ti sembra sono fortissimo la vittoria ci chiama la vittoria ci chiama e stavolta ha davvero ragione oh io ho qua che livello sono e un altro inhibitor è andato ci manca solo l'attore e l'inibitor di top no anzi andiamo al Nexus io sto arrivando dalla mid credo eh ti conviene la più costa si ma finchè non dici già l'altra torretta il Nexus è inattaccabile no non è vero è attaccabile è brutto basta solo l'ultima torre no non può attaccare il Nexus basta l'ultima torre eh te l'ho pur detto è altra torretta Gianetti ma dai io sono ancora all'inizio ma dai ma dai guarda guarda quello che prende a stia stai fermo che mi sto teletrasportando da te oh sto facendo un po' le incontri e vai così con le kill e abbiamo vinto e abbiamo vinto e abbiamo vinto su spula bravi su cebula una partita grandioso vai i miei spettatori avranno una partita